un saluto da raffaele drag 74 e questo è il test di registrazione video in full hd con le eco led cominciamo con questa macro pan veloce camminiamo per verificare la stabilizzazione un controluce e riadattamento al cambio di luminosità e concludiamo con il solito zoom un saluto a tutti